La liberalizzazione delle licenze taxi tra i provvedimenti annunciati dal governo Monti sta mettendo da giorni sul piede di guerra una categoria che si starebbe preparando anche ad uno sciopero nazionale indetto per il 23 gennaio, come deciso nella riunione di ieri a Bologna, dal parlamentino dei tassisti che comprende ben 19 sigle. Così se tra loro c'è chi si dice favorevole ad una medazione con l'esecutivo e chi invece batterebbe posizioni ben più dure, alcuni tassisti catanesi ribadiscono tutta la loro contrarietà. Chiunque basterebbe una marca da bollo, al comune si prendono una licenza, però c'è discorso che in queste licenze che andano a prendere non hanno niente a che farsi, anzi io avverto chi vuole fare un futuro tassista che non può farlo perché a Catania non ci sono tante persone che usano il taxi. Stiamo subendo questa notizia che ci danneggia tantissimo e praticamente siamo in attesa di evoluzione di questa manovra che sta facendo Monti. Una questione delle licenze è una questione che a voi ovviamente non va bene? Assolutamente non va bene perché la realtà di Catania offre quel poco lavoro che oggi gestiamo noi che siamo già in 200 solo i tassi regolari perché poi oltre quelli regolari ci sono gli abusivi, ci sono il noleggio con conducente, ci sono altri tipi di licenze che fanno il nostro lavoro che non lo possono fare anche. non abbiamo controlli da parte dell'amministrazione che ci tutelano già quel poco lavoro che noi abbiamo. Le tariffe si andrebbero ad abbassare quindi questo comporterebbe un danno per voi? Ma guarda non penso che si andrebbero ad abbassare, che c'è il diesel e le stelle, quindi non so come si può agire, c'è tante tassi che andremo a pagare perché noi siamo delle piccole aziende, abbiamo tutto da andare a pagare quindi non penso che andrebbe a abbassare l'arrienda.